Non vedevamo l'ora noi di Radio Bruno di conoscere meglio Maninni. Ciao, benvenuto. Ciao a tutti, grazie mille. Immagino che sia un'emozione incredibile calcare il palco di Sanremo. Come ti stai trovando? Come hai detto tu, è un'emozione incredibile, ma in realtà è una sensazione alquanto strana. È una sensazione che non hai mai provato nella vita e la puoi provare solo su quel palco. Anche se hai calcato magari tanti palchi prima, quella sera lì il palco del Festival di Sanremo è un altro campionato. Un altro campionato. E in questo campionato la tua canzone da dove è nata? Come hai tratto lo spunto, la voglia di scriverla, di proporla? La mia canzone è nata un anno e mezzo fa più o meno ed è figlia di un momento di, come ti posso dire, in quel momento stavo per mollare tutto, stavo per lasciare non la musica ma la vita dell'artista sul palco. Volevo continuare la mia carriera da produttore, ero stanco insomma di continuare a rincorrere un sogno, ma da quella caduta, da quella difficoltà è nata una canzone. Quindi spesso appunto i momenti di difficoltà arrivano ma ci lasciano sempre qualcosa di buono. In questo caso a me ha lasciato una canzone e in questa canzone, con spettacolari, io cerco di raccontarlo. Cerchi di raccontarlo però da questo momento di difficoltà tanta bellezza e poi il 9 di febbraio un'uscita importante. Sì, il 9 di febbraio di questa settimana esce il mio primo album dal titolo Spettacolare, che è il titolo della canzone in gara anche, ed è il mio primo album, un album in cui credo tantissimo, è un album molto variegato, ci sono canzoni che puoi ballare, canzoni che puoi cantare sotto la doccia, canzoni che puoi pogare ad un concerto, insomma è un Manini che si racconta a 360 gradi, all'interno ci sono canzoni autobiografiche quindi ho cercato di esprimermi al meglio. Quindi al meglio, però mi ha incuriosito, tu invece di solito sotto la doccia che cosa canti? Di solito sotto la doccia non canto, perché mi piace stare in silenzio. Allora, vivendo nella musica, diciamo 24 ore al giorno faccio musica, ascolto musica, canto, suono, produco, scrivo. Il momento della doccia è un momento di totale silenzio, ecco. Ho letto questa cosa molto curiosa, tu sei pugliese, ma sei allergico all'ulivo, è vero? Sì, è una tragedia, è una tragedia perché ho scoperto di essere allergico all'ulivo quando ci siamo trasferiti in un piccolo paesino vicino Bari, Bitetto, anche Bitetto tra l'altro, oltre alla Puglia che è la regione dell'ulivo, Bitetto è uno dei paesi principali dell'ulivo. Avevo praticamente una campagna fuori il balcone della mia caveretta ricca di alberi d'ulivo e nei periodi di fioritura io stavo sempre male. Vado a fare prove allergiche, allergico all'ulivo e diciamo che ogni anno durante i periodi di fioritura non sono uno splendore, ecco. Senti, la terra comunque pugliese ha accolto un grandissimo cantautore che ha vinto un anno Sanremo e che sarà con te sul palco venerdì, stiamo parlando di Ermal Meta. E canterete e non mi avete fatto niente. Ermal lo conosco da un paio d'anni, siamo diventati da subito amici e mi piaceva l'idea di portare un artista che oltre ad essere un artista per cui provo e nutro una stima incredibile, mi piaceva l'idea di portare sul palco un amico e non cercare di creare una combo fatta a pennello per quel palco. Non volevo portare solo un bravo artista o una bella canzone, volevo innanzitutto lanciare un messaggio e volevo farlo con un amico. E questo amico ti ha dato dei consigli e qualcuno ti ha detto prima di questa avventura sanremese mi raccomando mantieni la concentrazione, stai attento che è un frullatore divertente, però è un grande frullatore Sanremo. Io credo che il consiglio più bello che ho ricevuto da parte di alcuni miei colleghi artisti sia proprio il suo. Lui mi ha dato uno di quei consigli e da quel consiglio, diciamo, con quel consiglio sto affrontando ecco questa settimana e lui mi ha detto appena arrivi lì, mi raccomando, sorridi. E questa cosa qui io me la sto portando avanti perché effettivamente se affronto tutta questa esperienza col sorriso diventa ancora più bella. È proprio così, a parte il tuo sorriso stupendo, ma il sorriso negli occhi, che vuol dire che stai sorridendo anche nell'anima, perché stai facendo una delle cose più belle che sicuramente hai sognato da sempre. È l'esperienza più bella, credo, della mia vita ed è una delle esperienze più belle che un artista possa fare nella sua carriera. Credo che questa cosa mi rimarrà per tutta la vita, quindi al di là di come andrà mi può soltanto restare un bel ricordo. Subito dopo Sanremo, non ci dobbiamo riposare perché parte il tour. Non ci dobbiamo riposare, hai detto bene che in questo periodo... Sì, parte il mio primo in store, la settimana prossima, il lunedì 12 parto da Bari, quindi ritorno a casa ma incontro la mia gente. Subito dopo farò tappa a Roma, Napoli e Milano per il mio primo in store, invece a marzo parte il mio primo tour nei club in cui appunto presenterò il mio nuovo disco. Prima di salutarci però io voglio sapere il messaggio più bello che tu abbia ricevuto via Whatsapp in queste giornate. Se vuoi prendo il cellulare e lo leggo. Ah sì, dai! Dai, allora insomma intanto facciamo l'attesa. Ce l'ho, ma è un po' lungo. Aspetta. Ti ha commosso tanto? Nonna Maria. Ah, la nonna. Nonna Maria, eccola qua. Amore, sei stato fantastico, meraviglioso, senza virgola. Amore, sei stato fantastico, meraviglioso, bellissimo, bravissimo, stupendo, non mi stanco mai di riguardarti, sono commossa, lacrime agli occhi. Grande, amore di nonna, spettacolare, sei tu, ti voglio abbracciare e stringere forte forte. Tesoro mio, il mio artista preferito. Amore. Allora noi così salutiamo la nonna, meravigliosa, salve e ringraziamo Manini. Ciao, nonna, è lì, forse ho fatto qualche pari. È qui, è qui. Ciao, nonna. E ciao a te, grazie mille di essere stato con noi. Grazie mille a voi, ciao.